Allora, mentre vi leggo come al solito il suo curriculum, lo voglio vedere. Eccolo qua. Allora, la interpretazione della realtà definita virtuale, cioè modificabile, attraverso la storia, il mito e la moderna fisica quantistica. Tali studi l'hanno portato a elaborare una concezione dell'universo quale prodotto della coscienza e come espressione della stessa inconsapevole creazione umana. Numerose sono le pubblicazioni e i libri e io aggiungo è un esperto nella lotta tra Asura. Ma quella è un'altra cosa. Allora, ti chiamo Corrado, ci diamo le tu? Certo, certo. Allora, Corrado, il tuo intervento l'hai intitolato Il limite della scienza e le origini della coscienza. Cosa significa? Significa questo, che quando si deve parlare di coscienza, una delle prime cose che si dovrebbero fare, lo scientifico, è definire la coscienza. Se no, si parla di qualche cosa per mezz'ora, però non abbiamo ancora capito che cos'è il logo. E allora, devo dire questo. In realtà, il nostro universo è in qualche modo la produzione di qualcosa, è stato fatto da qualcosa o da qualcuno. Prima non c'era, ora c'è. Questo qualcosa o qualcuno, nell'istante in cui ha fatto l'universo, è entrato in contatto con la sua creazione e in quell'istante ha creato la cosa che si chiama universo in qualche modo con la sua fisicità, con la sua realtà. In parole povere, se noi studiamo l'universo, troveremo all'interno di esso le informazioni di chi ha costruito l'universo. È come se io dicessi, leggo un libro e nelle frasi, nel modo di scrivere dell'autore, in qualche modo io ho anche delle informazioni sull'autore. Allora, chi è che è preposto a descrivere l'universo? Lo storico, il filosofo, il fisico, ecco, all'interno per esempio, ma non solo, delle formule della fisica, dal mio punto di vista c'è già scritto tutto. Secondo me, ci sono le evidenze del perché e del per come l'universo è stato fatto, chi lo ha fatto e come lo ha fatto. Dice, ma come? Qual è il punto di riferimento? Il punto di riferimento iniziale è banale, perché noi lo studiamo a scuola, ma a scuola ci lo insegnano in un modo poco consapevole. Sapete, le formule della fisica sono vere tutte, quasi tutte e quasi sempre, solo che nella storia le formule cambiano interpretazione. Sono un po' storicistiche, come la storia stessa, voi sapete, se uno scrive un libro di storia vent'anni fa lo scrive in un certo modo, se lo scrive vent'anni dopo lo scrive in un altro modo, perché magari i partiti politici sono cambiati, le tendenze nel vedere le cose sono cambiate, quindi la storia è storicistica. La scienza è uguale, la scienza, mano a mano che passa il tempo, lo scienziato acquisisce quella che noi identifichiamo come la consapevolezza di quello che ha fatto. Vi faccio un esempio semplice, la gente non ci pensa, però queste cose andrebbero spiegate alle scuole elementari. Esiste la forza di gravità. C'è un signore che si chiama Newton, che un bel giorno si sveglia la mattina e vede delle mele che cascano per terra. E tutti sapevano che le mele cascavano per terra, però lui in quell'istante se ne accorge e si chiede, una cosa fondamentale, si chiede, ma perché le mele cascano per terra? Ecco, gli altri, gli amici di Newton, non se ne erano mai chiesto. Questo che cosa vuol dire? Che per capire qualcosa bisogna farsi delle domande, perché se uno non si fa delle domande non avrà mai delle risposte. Punto numero uno. Punto numero due. Il povero Newton scrive una formuletta che descrive la forza di gravità. Quando si va avanti nel tempo, si comprende che non esistono le forze di gravità soprattutto. E questo lo diceva un altro che si chiamava Einstein, che ci ha preso anche un premio Nobel, quindi va comunque preso in considerazione. E Einstein cosa diceva? Che le forze non esistono, non c'è nessuna ragione. Pensate. Non c'è nessuna ragione che le mele caschino per terra. Questo lo scrive Weiler su un libro di fisica quantistica che si chiama Gravitation, che è un tomo di 1200 pagine così. E io da bambino piccolo, quando avevo 6-7 anni, mi chiedevo, ma perché le mele dovrebbero cascare per terra? Mi sembrava una cosa assurda. Infatti scopro poi all'università che è effettivamente assurda, perché le mele non cascano per terra perché c'è la forza. Cascano per terra, dice Einstein, perché c'è la piegatura dello spazio-tempo. È come se le mele, che pesano poco, non piegano lo spazio-tempo. Invece la terra, che pesa tanto, piega lo spazio-tempo. Spazio-tempo è una cosa sola. È come un piano di domopack. Quando ci metti una mela sopra, vedi che il domopack si flette. La mela casca nella buchina della terra, perché la buca della terra è più grossa. E noi che cosa crediamo di vedere? Che la mela ci viene addosso. Ah, era cambiata la concezione della formula di Newton. La formula era sempre la stessa, ma la concezione era cambiata. Dieci anni fa o non viene fuori la NASA che dice che la piegatura dello spazio-tempo non esiste? Porca miseria! E allora come si fa? Lo sapete come si fa? Si fa rispondendo in due modi. O si trova un'altra soluzione o noi oggi, 2021. Non sappiamo perché le mele cascano per terra. Questa è la cosa fondamentale che andrebbe insegnata a scuola. Perché questa è una cosa che si chiama consapevolezza. Poi arriva un altro signore che si chiama Verlinde, che non conosce quasi nessuno. E un altro signore che si chiama Maldasena, che anche lui non lo conosce quasi nessuno, ma lavora al Massachusetts University, che dice guardate che la forza di gravità non è una forza, è un effetto della entropia. Porca puttana, quella è una cosa ancora più complicata. Che cos'è l'entropia? E si capisce una cosa fondamentale. Loro dicono una cosa bestiale, tremenda, quasi incomprensibile. L'universo è un ologramma. Quindi non esiste nessuna forza in un ologramma. In un ologramma sai com'è? Ci metti una mano nel mezzo. È impalpabile. Non ne senti le proprietà massive. Tutto questo perché questo signore che si chiamava Verlinde fa una certa serie di calcoli che lo portano a comprendere che l'entropia, che ora ti dirò che cos'è, è quella cosa che sviluppa la forza di gravità, quella che a noi ci sembra forza di gravità, e questa cosa accade perché nei suoi calcoli matematici o non ti riscopri la formula di Newton. Vedi, la formula di Newton è sempre vera. Ma una volta si pensava che esistesse la forza di gravità e ora si dice, non è vero niente, ora c'è l'universo olografico. Che cosa è cambiato nel tempo? È cambiata una cosa che si chiama consapevolezza. E che cosa cavolo è la consapevolezza? La consapevolezza è quella quantità di informazione che tu hai per sapere le cose. L'universo parte da un concetto fondamentale che è la coscienza. La coscienza è qualche cosa che c'è sempre stata. C'era prima, c'è ora e ci sarà dopo, cioè è eterna. E questo nelle formule della quantistica c'è scritto. Ma il problema è che siccome questa coscienza è sempre lì, sempre ferma, non fa niente, non è descrivibile da un punto di vista fisico e matematico, perché noi nel nostro universo siamo abituati a descrivere solo le cose che cambiano. Un bicchiere ora sta qui, dopo sta lì. Ecco, qui e lì, ora e dopo, spazio e tempo, che meraviglia. Ma se il bicchiere sta qui ora e qui dopo, ora e dopo non servono a niente. Quindi il tempo rappresenta una variazione dello spazio sostanzialmente, o viceversa. Se non cambia nulla, non si vede nulla. Siccome noi l'universo lo stiamo vedendo, vuol dire che l'universo è in continua evoluzione, in continuo cambiamento, se no noi non potremmo vedere niente. Che cos'è dunque il rapporto tra coscienza e consapevolezza? La consapevolezza è quella cosa che ti dice che tu hai coscienza. Ammetti di avere 100 miliardi in banca, ma ammetti di non saperlo. La tua coscienza sono i 100 miliardi, il fatto che tu non lo sai è la consapevolezza. Cioè hai una consapevolezza della tua coscienza pari a zero. Che cosa cambia nell'universo? Non la coscienza, la coscienza è sempre la stessa. Cambia nel tuo cammino la consapevolezza che tu hai della tua coscienza. E mano a mano che questa cosa cambia, tu ti rendi sempre più conto di un certo numero di cose. Ora, non sapete che c'è una formula della fisica, ma della termodinamica soprattutto, che descrive tutto questo. Tutto questo è banalmente già descritto. E la formula è il secondo principio della termodinamica. C'era un signore che si chiamava Boltzmann che ha fatto una formuletta. E il secondo principio della termodinamica è un principio, non è una formula che viene da chissà dove. È così e basta, non va dimostrato. Cosa dice il secondo principio della termodinamica? Dice, l'entropia dell'universo aumenta sempre. E che cosa cavolo è l'entropia? E perché noi diciamo che l'entropia e la coscienza sono la stessa cosa? Perché se riusciamo a dimostrarlo abbiamo una formula che ti dice come è fatto Dio. Vedete, l'entropia ha una caratteristica fondamentale. Secondo il secondo principio della termodinamica, l'entropia aumenta sempre. L'entropia che cos'è? È il disordine. O meglio, anche l'ordine. Nei libri di fisica poco accorti c'è scritto disordine e si dice il disordine dell'universo aumenta sempre. Lo dice il secondo principio della termodinamica. Lo vediamo tutti i giorni. E se guardiamo bene l'universo ci accorgiamo che è il contrario perché l'universo non aumenta il suo disordine. L'universo diventa sempre più freddo, le cose si rimettono al loro posto, dove c'era spazio vuoto diventa pieno, dove c'era spazio pieno diventa vuoto, tutta la densità uguale. Ma quello è l'ordine. E allora perché sui libri di fisica c'è scritto disordine? C'è scritto disordine perché a metà del 1800 la Chiesa, quando si scoprì il secondo principio della termodinamica, disse ma l'universo, che è la creazione di Dio, secondo la Chiesa, si sta raffreddando, sta morendo, sta terminando, finisce. E gli si dette così un'accezione negativa perché la creazione di Dio non poteva finire. E allora, ob torto collo, i fisici dell'epoca dettero ragione alla Chiesa, però i conti non gli sarebbero più tornati. E allora cosa hanno fatto? Hanno messo un segno meno davanti al simbolo dell'entropia. Meno entropia, cioè meno disordine, cioè ordine. I preti non se ne sono accorti e i fisici sono andati avanti per la loro strada. Quindi quello che aumenta è l'ordine. L'ordine è qualche cosa che ha a che fare con la coscienza. La coscienza è sempre lì. Allora che cos'è quell'entropia? È la consapevolezza. Noi tutti i giorni, secondo il secondo principio della termodinamica, la consapevolezza aumenta sempre. Non può mai diminuire, pensate. Noi non potremmo mai tornare uomini della pietra o figli della scimmia se mai lo siamo stati. Mai. Perché il secondo principio della termodinamica ce lo vieta. Non possiamo, non solo, non possiamo tornare a essere stupidi. Ma mano a mano che il tempo va avanti, Ilya Prigozhin ci ha preso il premio Nobel, l'entropia aumenta sempre, quindi aumenta la consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi tutti i giorni. E questa cosa è molto importante per comprendere. Che cosa? Per comprendere che l'universo è informazione. Già, perché l'entropia, cioè la formula di Boltzmann, è uguale a un'altra formula, che è quella che ha scritto un altro signore che si chiamava Shannon. La formula è la stessa sostanzialmente, solo che Shannon non si interessa di entropia, si interessa di informazione. E giunge a scrivere che tra l'entropia e l'informazione c'è la stessa formula. Allora voi capite che l'informazione aumenta e quando aumenta l'informazione è chiaro che la consapevolezza di sé aumenta, perché cos'è la consapevolezza? La quantità di informazione che ti hai. Allora, la consapevolezza è legata all'informazione, l'informazione è legata all'entropia, quindi la coscienza è tutta l'entropia in generale dell'universo, ordine e disordine che c'è. E la consapevolezza è la misura di come tu sai chi sei, sostanzialmente. E c'è un problema. Quasi nessuno si rende conto, perché sai, sono quelle cose che si fanno tutti i giorni, che quando si vanno a fare i calcoli sull'entropia si usa la formula che dice entropia uguale meno logaritmo dei microstati. Cosa sono i microstati? Come te puoi essere? Se sei seduto e in piedi i microstati sono due, se sei solo seduto e il microstato è uno. Quindi capisci una cosa fondamentale, che meno microstati hai, più il meno logaritmo del numero è più grande. Vedi? L'entropia aumenta sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi siamo tanti pezzi di consapevolezza e di coscienza, mano a mano che l'universo va avanti, le coscienze si riunificano tutte in un'unica coscienza. Questo lo dice il secondo principio della termodinamica, perché l'entropia deve aumentare. Non è che si può fare in un altro modo. Deve essere o così o po' mi. E allora a questo punto si comincia a capire anche un'altra cosetta. Ma non sarà. Questa è la ragione del perché i matematici usano il logaritmo in base 2. Non potrebbero usare i logaritmi normali che si usano tutti i giorni, il logaritmo in base 10. Perché usano il logaritmo in base 2 nel calcolare l'entropia? Perché hanno visto che gli vengono dei numeri semplici. e chiediti, fatti la domanda, ma perché vengono dei numeri semplici? La risposta è una sola, perché siccome l'entropia è anche una misura della simmetria dell'universo, l'universo è nato duale. È nato da una coscienza sola. Ma questa coscienza sola si è divisa in due. Ed ecco che capisci che tutto l'universo è duale. Pensa, le cellule si dividono in due. Le reazioni chimiche avvengono tra l'ulto tra due cose. Il segno più ha anche il segno meno. Il segno per ha il segno diviso. È tutto duale. Noi vediamo tutta l'universo, tutta la visione che abbiamo dell'universo duale. I buoni e i cattivi. Acceso, spento. Vuoto, pieno. destra, sinistra. E questo nasce dal fatto primordiale che l'universo, negli istanti in cui era coscienza sola, noi non vedevamo niente. Perché la coscienza è sempre la stessa e non si muove. Negli istanti in cui la coscienza si è divisa in due. Ha dato origine alla dualità. Ha dato origine al famoso mito di Shiva e Visnu, se vogliamo dirla in questo modo. Perché nel mito c'è scritto tutto. E perché noi possiamo paragonare quello che c'è scritto nella fisica quantistica a quello che c'è scritto nel mito. Perché se è vero che noi siamo tutte le parti di una coscienza che hanno continuato a dividersi a due, a due, a due, a due, fino all'ultima possibilità, noi siamo pezzi del creatore. Noi siamo i creatori che abbiamo creato tutto. E questo, nelle formule della fisica quantistica, quantistica c'è assolutamente scritto. Pensate che c'è un teorema di un signore che si chiama Gödel, poverino, matematico, che sapete come sono i matematici, no? Noi abbiamo la visione del matematico che sono sempre quelli, un po' all'Einstein, quei capelli tutti messi così, che hanno una confusione nella testa, fuori perché non si pettinano, e dentro perché hanno idee confuse. Beh, quello che succede è che Gödel scopre un teorema che si chiama teorema della indecidibilità, nome tremendo, dove non si può decidere niente. E lui dice, se noi siamo in un universo e cerchiamo di capire come è fatto questo universo con delle leggi della fisica o della matematica, bene, giungiamo alla conclusione che, dimostrato scientificamente, tutte le leggi dell'universo sono vere oppure sono false, ma noi non lo sapremo mai. I matematici, una volta che è uscito il teorema di Gödel si volevano sparare, invece quello che è successo è che Gödel si è suicidato. Perché Gödel si suicida? Ora, pensate, Gödel era evidentemente una persona che non aveva tutte le facoltà mentali al suo posto. Quando la moglie, che era l'unica che gli faceva da mangiare, va in ospedale perché aveva una malattia, Gödel non si fidava di nessuno, non si alimenterà più e morirà di fame. E noi ci dobbiamo chiedere perché lo scopritore di questo importante teorema si trova a vivere questo tipo di situazione. non sarà perché lui, ignaro creatore, come tutti noi, ignari creatori dell'universo, non sappiamo di esserlo, costruiamo fuori di noi quella realtà fisica che dentro di noi non siamo in grado di vedere e speriamo inconsapevolmente che la realtà che stiamo costruendo fuori è estroiettata fuori, ci faccia vedere la parte di noi che noi non conosciamo. Gödel vede in qualche modo non vuole essere contaminato dall'altro perché nel suo teorema c'è scritto questo che per fare in modo che l'universo sia decidibile bisognerebbe che ci fosse un altro universo che lo guarda e gli dice a te, dall'esterno, che sei fatto così, magnifico, e a questo universo qui, al secondo, chi glielo dice? Come è fatto? Si scopre che per Gödel ci vogliono gli infiniti universi a nastro, a giro, che si riconnettano col primo dove infinite regole saranno tutte vere perché tutte si saranno identificate. Ma questa è una cosa complicatissima. Gödel sta dicendo che l'universo è qualcosa di non decidibile. se i religiosi potrebbero dire Dio ha creato uno scatolone, ha messo gli esseri umani dentro questo scatolone, ma ha fatto in modo che gli esseri umani non gli vadano a rompere le palle perché non vuole che le sue creature escano dallo scatolone. Invece il fisico potrebbe dire ci sono delle leggi della fisica che ci impediscono, siccome l'universo è fatto così, di andare a guardare fuori. Questa cosa sembrerebbe in contrasto con il fatto che noi siamo i creatori dell'universo, inconsapevoli. Inconsapevoli perché non ne abbiamo consapevoletta e coscienza. Tanto è vero che c'è un altro premio Nobel che si chiama Heisenberg che ci ha vinto il premio Nobel sul fatto che esiste una indeterminazione. Io posso fare la misura di questo elettrone, capire esattamente la sua energia, ma non posso sapere quando quell'energia ce l'aveva. Oppure posso sapere esattamente quando lui è lì, però non posso sapere in quell'istante che valore ha la sua energia. Anche lì, ecco che ci troviamo di fronte a uno sbarramento. Ma come? Ma se noi fossimo i creatori dell'universo, ma perché mai avremmo dovuto creare un universo con degli sbarramenti? Non torna. Ma allora come si risolve questa cosa? Con la consapevolezza. La formula di Heisenberg, Heisenberg l'ha fatta qualche tempo fa. Subito dopo viene fuori un altro signore che ha vinto anche lui un altro premio Nobel che si chiama Compton e che ha detto guardate che il principio di indeterminazione sostanzialmente non è un'indeterminazione perché si scrive in un altro modo. Io ho una massa che vibra avanti e indietro che diventa più grande e più piccola, più grande e più piccola in modo preciso calcolata in una unità di tempo precisamente calcolata. Cioè è un orologio, un pendolo, un orologio atomico con la precisione infinita. Allora la stessa indeterminazione letta in un altro modo diventa totale determinazione. E se andiamo ancora avanti e comprendiamo la differenza che c'è tra la fisica vecchia e la fisica nuova, tra la fisica di Newton e la fisica di oggi, comprendiamo anche un'altra cosa importante. Newton diceva le cose o accadono o non accadono. Se io prendo due palline e le lancio nello spazio a una certa velocità e in una certa direzione queste prima o poi si incontreranno. Oppure non si incontreranno. La fisica moderna dice no, te hai la probabilità che queste palline si incontrino. Oppure la probabilità che non si incontrino. Non c'è più la certezza che un evento accade. Questo da un punto di vista coscienziale come si interpreta? È facile. La probabilità che un evento accada dipende da te. Pensate, questo dicono i lavori di fisica quantistica moderna che dicono tu sei il creatore dell'esperimento, non ti accorgi, ma lo stai facendo, modifichi l'esperimento ad usun delfini. E questo si dimostra. Von Neumann, Winberg, lo dimostrano. Tutto questo ci fa capire una cosa fondamentale, che la probabilità non ha il significato di probabilità che i fisici ci vogliono far credere, ma andiamo avanti con la nostra consapevolezza. La probabilità è una misura propria della consapevolezza. Perché? Perché se tu sei consapevole di essere il creatore dell'universo, tu lo puoi manipolare. Lanci una moneta in aria e sai che scenderà giù in testa. Se non sai niente, non sai di essere il creatore, lanci la molecola per aria senza consapevolezza di te e la molecola 50% cadrà a testa e 50% cadrà a croce. Quindi, a seconda della consapevolezza che tu hai, la probabilità che un evento fisico si manifesti è determinata solamente dalla tua coscienza, dalla tua volontà. Tu cominci a comprendere che sei all'interno dell'universo il creatore dell'universo. E perché? Perché la domanda deve essere fatta. Ma perché io che sono il creatore dell'universo sarei qui, in questo posto molto strano, in cui ci sono i buoni e i cattivi e noi viviamo in un contesto completamente duale in cui si cerca addirittura del famoso divide e timpera, in questo momento storico si vede chiaramente con questa specie di chi si fa la punturina e chi non si fa la punturina. Ma è solo un esempio. Perché tutto ciò? E allora si comprende una cosa fondamentale che la coscienza all'inizio non voleva fare niente ma per caso si è divisa e si è divisa in due perché è la cosa che costa meno in termini di energia. Nell'istante in cui si è divisa in due le due parti della coscienza si sono guardate e hanno detto porca puttana ho perso un pezzo e ora come si fa? E hanno capito che lì era necessario comprendere che cos'era la dualità che cos'era la divisione che cos'era la separazione perché questo era l'unico modo per capire chi è la coscienza perché la coscienza da sola non avendo punti di riferimento non sa chi è e non lo saprà mai deve crearsi uno specchio ed ecco che i due pezzi della coscienza si specchiano l'uno nell'altro perché nel mezzo c'è un piano di simmetria io guardando la mia immagine speculare scopro che io sono la controparte di lui siccome l'universo secondo la fisica moderna è un frattale cioè tutto è fatto con gli stessi mattoncini per cui il mattone gigantesco e il mattoncino piccolo piccolo sono sostanzialmente uguali se non per dimensioni quello che accade nell'istante in cui la coscienza si divide è quello che sta accadendo ora in questo momento perché il fisico Bohm dice non solo l'universo ha delle caratteristiche olografiche cioè un ologramma ma è un frattale quindi l'universo è non locale cosa vuol dire non locale vuol dire che secondo Bohm non esiste nello spazio ne il tempo ne l'energia pensa al tempo Bohm dice sostanzialmente che non esiste il passato e non esiste il presente e non esiste il futuro ma tutto accade in un unico istante lo stesso istante in cui c'è stata la creazione le due sfere si sono staccate tra di loro è che è nata la dualità e noi viviamo ora l'esperienza della dualità ognuno di noi sta vivendo una sua esperienza della dualità per comprendere qualcosa che ha a che fare con la separazione nell'istante in cui la separazione non c'è più ecco che i microstati della formula di Boltzmann vanno a zero diminuiscono 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 fino a fare in modo che il meno logaritmo dei microstati rimane uno l'essere unico che c'era all'inizio l'essere unico che c'è alla fine meno logaritmo di uno uguale zero il valore massimo dell'entropia cioè il valore massimo dell'ordine il valore massimo della simmetria pensate che cosa meravigliosa noi staremo qui semplicemente per comprendere che cos'è la dualità ognuno di noi ne comprende un pezzettino e tutti insieme ci si riunisce alla fine dell'universo per dire ora abbiamo capito che cos'è la dualità e possiamo dire noi siamo il contrario perché la coscienza è una cosa sola ma che differenza c'è tra la prima coscienza sola e completamente stupida e l'ultima coscienza unica l'entropia cioè la consapevolezza di sé prima entropia meno infinito cioè nasofeca e poi entropia massima cioè zero zero perché per convenzione l'energia di tutto era zero all'inizio zero nel mezzo è zero alla fine è sempre zero deve tornare con questo pensate che Penrose che è un fisico importante che ha preso l'anno scorso il premio Nobel per la fisica ha visto studiando la mappa del cielo cioè la radiazione di fondo sapete il rumore che il Big Bang ha fatto quando sto Big Bang c'è stato e si vede una cosa fondamentale che ci sono due punti neri opposti geometricamente nel nostro universo che sono i punti più freddi e questi punti più freddi sono quei due punti da cui è in qualche modo comparso Shiva e comparso Visnu se volessimo dirlo col mito è comparsa la materia ed è comparsa l'antimateria a specchio ed ecco che ancora una volta si vede da tutti i punti di vista anche dal punto di vista psicoanalitico che la dualità è funzionale alla comprensione di chi siamo se parlato ho sentito prima da alcuni relatori di questo convegno del libero arbitrio allora guardate che il libero arbitrio esiste perché c'è la dualità cioè io sono stato messo su un binario qui in questo universo e posso andare avanti o andare indietro pensate questo è il libero arbitrio bene pensate se io avessi potuto fossi potuto andare solamente in una direzione non avrei potuto scegliere le cose che sto facendo non avrei cioè potuto fare l'esperienza della dualità quindi la creazione di una divisione tra le due parti della coscienza è fondamentale per comprendere che questa divisione è stata creata e noi la viviamo solo per comprenderne la natura per poi dire noi siamo il contrario sapete che cosa succede quando il cammino esperienziale viene prodotto primo step entropia zero primo step sono sano ma completamente cretino secondo step mi viene voglia di farmi una domanda perché mi viene voglia di capire come funziona qualcosa oppure ho capito che sono malato e ho capito anche che a ammalarmi sono stato io stesso perché proietto sul mio corpo quindi sull'esterno se vogliamo sulla realtà virtuale di tutti i giorni quel qualcosa che mi deve far capire qualcosa di me dentro in quell'istante domanda e risposta bisogna cercare di risolvere questo problema quindi io devo rispondere alla mia domanda devo guarire dalla mia malattia posso guarire solo se capisco che io stesso mi sono ammalato allora capirò anche perché l'ho fatto e il terzo step sono sano ero sano prima sono sano nel punto numero tre che differenza c'è nel mezzo che ho capito ho capito perché mi sono ammalato ho capito un sacco di cose che prima non avrei potuto capire e l'idea di specchiarsi nell'altro ci fa comprendere come forse in questo momento storico noi non vediamo le cose come dovrebbero essere viste cioè l'altro quello che sta dall'altra parte della barricata è un altro è il mio nemico sapete non ci sono nemici l'altro è quella parte di te che te dentro di te non vuoi accettare funziona così in tutte le opere d'arte per esempio nella musica no? qui parliamo anche di musica io faccio un concerto faccio una canzone Battiato scrive delle cose sulla coscienza fondamentali perché è stroietta fuori di sé cercando di comprendere meglio quello che dentro di sé non riesce a vedere ha bisogno di guardarlo fuori ed ecco che il suo problema è proprio la coscienza e si vede nelle sue composizioni questa cosa fondamentale e si vede che lui vuole andare a fondo di questo argomento e si capisce perché anche Heisenberg per esempio ha voluto studiare il principio di indeterminazione Heisenberg lo scrive dice ma proprio io che ero marxista comunista leninista quindi determinista mi è toccato prendere pure il premio Nobel su un principio che dice che è tutto indeterminato e c'aveva anche come si dice permettetemi il francesismo le palle un po' girate e perché perché lui vede proietta crea fuori di sé quella cosa di sé che lui non ha capito e guardate che noi tutti facciamo questo tutti i giorni e cerchiamo quella parte di noi che non abbiamo capito e lo sapete fondamentalmente questa parte di noi che non abbiamo capito che cos'è è che noi siamo una cosa sola che l'altro non è un altro è quella parte di me che mi sta sulle palle è quella parte di me che io ancora non ho digerito è quella parte di me che io devo comprendere fino in fondo e questo vale per quelli che si fanno la punturina e per quelli che non si fanno la punturina che dovrebbero guardarsi con questa ottica secondo il mio modesto punto di vista ma questo lo scriveva anche un signore che si chiamava Hofstalter che ha scritto un libro sul loop lui dice non potrò mai capire chi sono perché io sono sicuro che l'altro è uno specchio di me e fin qui siamo d'accordo ma io non potrò mai imparare dall'altro perché se l'altro è uno specchio di me mi specchia avrà le mie stesse informazioni quindi creo un loop sinergico che non porterà mai a nessun risultato finale Hofstalter sbaglia una cosa fondamentale Hofstalter crede che l'immagine speculare che noi abbiamo al di fuori di noi e che ci creiamo tutti i giorni al di fuori di noi sia un'immagine speculare uguale a se stesso no le due coscienze quando si sono creati da una coscienza unica sono è vero l'immagine speculare ma una è fatta di materia l'altra è fatta di antimateria cioè l'altra è l'altra parte di me che mi manca da cui posso imparare per guardare quindi è vero che noi siamo sostanzialmente uno è vero che dobbiamo acquisire consapevolezza di noi è vero che il secondo principio della termodinamica ce lo dice chiaramente stai tranquillo arriveremo ad acquisire la consapevolezza di noi è vero quindi che l'altro è una immagine proiettata da noi inconsapevolmente però ci serve per capire chi siamo veramente dentro è tutto vero ma questo ha un risultato e una caratteristica fondamentale sapete che cosa vuol dire che finisce tutto bene perché perché non c'è niente da fare non ci potrà essere Tizio Caio Sempronio Draghi non ce ne può fregare di meno perché a un certo punto la gente comprenderà comprenderanno quelli pro e quelli contro comprenderemo tutti perché l'entropia aumenta senza pietà per sempre lo dice il secondo principio della termodinamica non lo dice la madonna che mi è scesa di notte in camera capito non è una cosa che viene fuori dai conti della matematica è così e basta su questo non ci si discute quindi non ci sarà mai un potere che potrà in qualche modo soffocarti perché ciò è solo un momentaneo allora nasce un ultimo problema come la risolviamo questa storia è se questa storia si risolve anche non facendo niente perché se non fai niente tanto l'entropia dell'universo aumenta sempre che problema c'è alla fine noi tutti insieme ci riconosceremo è un po' come un atto d'amore che cos'è un atto d'amore vi siete mai perché poi la gente parla di queste cose ma senza andare in fondo alle cose quando te incontri nell'altro come dire quella sensazione impalpabile che te ti sei sempre conosciuto con quell'altro perché l'altro sei te le tue coscienze la tua e la sua la parte animica tua e sua si sono riconosciute a livello inconsapevole te non te ne rendi conto dice ma cosa c'è a quella persona lì che mi interessa tanto no magari dura un secondo questa cosa è quello è quella che è l'atto il cosiddetto atto d'amore perché la coscienza noi siamo la stessa cosa allora io non posso amare l'atto d'amore in questo senso in questo modo non ha senso coscienzialmente cosa faccio amo me stesso ma che mi frega certo è così io però l'atto d'amore è quell'istante in cui io riconosco nell'altro me stesso pensate tutto questo è già scritto nelle formule della fisica e perché ce ne accorgiamo solo oggi perché oggi abbiamo la consapevolezza che ieri non avevamo perché la consapevolezza è come l'entropia aumenta sempre aumenta ogni giorno e quindi a un certo punto si arriva e succede qualcosa e noi comprendiamo questo è un momento storico in cui stiamo comprendendo delle cose e almeno il 20% degli italiani le stanno comprendendo in modo molto forte gli altri ci arrivano con calma e noi non possiamo forzare l'altro sapete com'è il problema dell'insegnamento l'insegnamento non esiste non esistono i maestri non esistono ma dice ma te hai insegnato 40 anni e passa chimica organica al dipartimento di chimica come non hai insegnato come non c'è l'insegnamento no io andavo lì e non insegnavo niente a nessuno io mostravo me stesso te ti mostri e ti mostri la tua mappa del territorio tu fai vedere cosa pensi dell'universo agli altri gli studenti invece sono attivi e se vogliono si mettono nei tuoi panni e per un attimo guarderanno l'universo con i tuoi occhi non esiste nessun maestro esiste quell'altro che si mette nei tuoi panni e in quell'istante che cosa c'è? un momento di comunione tra te docente e indiscente in cui le nostre coscienze si unificano perché è bello andare a lezione e non si può studiare stando a casa è banale perché è meglio andare a sentire un concerto dal vivo che sentire un disco è banale perché nell'istante in cui tu sei lì sei in qualche modo in armonia in fase con il cervello della persona che sta suonando come le prove che sono state fatte con gli elettroencefalogrammi attaccati a tutti i componenti di una orchestra hanno si è visto tecnicamente lavori pubblicati su riviste scientifiche importanti che c'era coerenza tra le onde alfa beta e gamma del cervello di tutti i suonatori quello è la dimostrazione di un momento di unione che fa aumentare l'entropia al massimo fa diminuire l'energia a zero e quindi in quel momento di coesione non c'è più tanti suonatori che suonano ognuno per conto suo ma c'è un unico suonatore con cento teste e ognuno fa la sua esperienza noi chi siamo su questo cavolo di pianeta 7 miliardi di persone ognuno che suona uno strumento e il nostro problema è comprendere innanzitutto che possiamo metterci tutti insieme e suonare tutti con la stessa frequenza e si comprende così come le due teorie fondamentali dell'evoluzione sono sostanzialmente sbagliate il creazionismo e l'evoluzionismo non sono due teorie diverse sono due parti di un'unica teoria il creazionismo ti dice come la cosa si è creata l'evoluzionismo come si è evoluta e allora la vera teoria non è né questa né quell'altra non hanno ragione né gli scienziati né i preti hanno ragione le persone coscienti che hanno detto la vera teoria si chiama TRE teoria della risonanza evolutiva sapete che cosa dice questa teoria innovativa? dice che se te sei dentro un campo che ha una vibrazione che vibra fai conto all'universo l'universo ha una vibrazione diceva anche De Broglie grande chimico grande fisico anche lui se dentro abbiamo un certo numero di cose che potrebbero essere molecole d'acqua ma anche pendoli anche metronomi e questa vibrazione del campo produce una vibrazione all'interno e tutti i metronomi si mettono a oscillare nello stesso modo questo vuol dire che la simmetria dell'universo è aumentata l'entropia è aumentata la coscienza è aumentata e quello è l'istante in cui tutto ciò che c'è dentro l'universo evolve è come se tu avessi una pallina in una buca la pallina siamo noi e per qualsiasi cosa facciamo se ci spostiamo a destra va male perché l'energia aumenta se ci spostiamo a sinistra va male perché l'energia aumenta e noi crediamo che stare in fondo alla buca sia la cosa migliore no questo è un processo metastabile se te gli dai una spinta più alta alla pallina scopri che la pallina potrebbe cadere in una buca più bassa che sta da l'altra parte e quindi se te hai questa scatola con questa buca nel mezzo e questa pallina che oscilla prova a oscillare la scatola con la stessa frequenza a cui oscilla la pallina vuoi vedere che la pallina ti schizza fuori dalla buca e se siamo fortunati va a beccare una buca più bassa questo è il momento di evoluzione quindi non c'è un'evoluzione fatta da un Dio che non avrebbe mai potuto crearti e lo sai perché perché se Dio ci avesse creato vorrebbe dire che avrebbe avuto il bisogno di farlo ma se un Dio ha un bisogno vuol dire che ha una necessità quindi gli manca qualcosa ma per definizione a Dio non manca nulla quindi quello che si potrebbe dire è che Dio non può aver creato l'uomo o se l'ha creato non se ne è accorto per caso ma se lo avesse creato per caso non sarebbe Dio perché Dio ovviamente si accorge di tutto esiste solo un'unica possibilità mettila da un punto di vista filosofico come ti pare quantistico relativistico chimico siamo noi i creatori dell'universo e siamo qui per comprendere come funziona il gioco noi giochiamo una grande partita a scacchi e a metà della partita in questo istante di vita mi accorgo che il mio avversario sono io mi accorgo che io stesso ho creato la scacchiera ho creato le regole del gioco e mi accorgo che io non posso vincere e non posso perdere perché? perché se vinco sto perdendo perché se vinco sto giocando con un giocatore che è meno bravo di me quindi non ho imparato nulla se perdo sto vincendo perché vuol dire che lui è più bravo di me e io ho perso ma ho imparato qualcosa ecco la dualità non esiste la fisica moderna dice che lo spazio è vuoto ma è vuoto perché non c'è nulla o perché c'è tutto e il contrario di tutto quando cominciamo a capire questa cosa cominciamo a capire che non ci sono i buoni e i cattivi come ti insegnano malamente a scuola la maestra divide con il gesso la lavagna in due e scrive buoni e cattivi perché questo è quello che il governo vuole farti credere e ti fa credere anche che tu puoi votare a destra o a sinistra in realtà tu voti sempre per la massoneria che governa sia la destra che la sinistra quando hai compreso questo hai compreso che la dualità era finta l'hai costruita tu e perché l'hai costruita l'hai costruita perché avevi bisogno di vedere di credere che esistesse la dualità e siccome sei tu il creatore hai creato l'universo così come pensavi che dovesse essere creato mano a mano che vai avanti nel tuo processo di acquisizione di consapevolezza scopri che la dualità è finta non esiste e c'è solo una cosa di cui tutti noi facciamo parte e questa cosa si chiama coscienza e non c'è altro da dire il problema è risolto noi possiamo aspettare che tutti gli esseri umani tutte le piante tutti gli animali tutte le cose viventi cioè con coscienza ecco ora sappiamo anche dare una definizione di essere vivente quella roba lì che c'è dentro una coscienza pensa questo è un corpo ma è un cappotto il cappotto è morto sia dall'inizio che alla fine sia anche quando uno è un bambino piccolo il cappotto è morto è vivo perché ci sei dentro te che gli dà la vita poi il cappotto invecchia e lo butti e poi ci fai quello che ti pare dopo ma questo è importante per comprendere che cos'è una cosa vivente la cosa vivente è quella cosa che c'ha la coscienza e la coscienza è la possiamo vedere nel nostro universo l'entropia possiamo lasciare andare tutto così e vedrai che va tutto bene però perché aspettare qualche migliaia di anni prima di cacciare Mario Draghi non si potrebbe fare subito e come si fa? è semplice facendo qualcosa e quello che si deve comprendere dal mio modestissimo punto di vista poi mi chiedo è abbiamo fatto tutte le rivoluzioni del mondo abbiamo fatto la rivoluzione industriale la rivoluzione sceltifica la rivoluzione ecclesiastica la rivoluzione militare la rivoluzione economica e la rivoluzione sociale alla fine non è successo niente ce ne manca una di rivoluzione la rivoluzione della coscienza e come cavolo si fa? guardando dentro di noi perché non cercare fuori quel qualcosa che te non riesci neanche a vedere comincia a cercarlo dentro di te e dentro di te scoprirai che storicamente chi comanda non vuole che tu guardi dentro di te notate bene cosa dice chi comanda non guardare dentro di te guarda fuori guarda nelle altre religioni guarda negli altri falsi dei che in realtà per loro sono dei ma per noi sono falsi dei perché Dio sei te sei te il creatore guardati dentro e come si fa? si fa con un sacco di pratiche che si possono trovare dappertutto va bene io ne ho inventata una in questi ultimi anni che è fondamentale che si chiama Tria de Color Test dinamico Flash ma al di là di questa tutte le strade portano a Roma ma l'importante è fare dentro di noi mettere insieme quella dualità che abbiamo dentro e farla tornare una cioè la parte destra e la parte sinistra del cervello la parte femminile e la parte maschile che tornano a essere una cosa sola e che non si fanno più la guerra tra di loro no? quante volte dentro di noi abbiamo un conflitto fondamentale e questo conflitto fondamentale tra il femminile e il maschile cosa facciamo? lo ricreiamo fuori ricreandolo fuori per cercare di capirlo dentro e quasi sempre noi non ci azzecchiamo mai invece il nostro partner guardalo bene i nostri genitori maschio e femmina guardali bene i nostri figli maschio e femmina guardali bene perché loro sono lo specchio della tua parte animica e della tua parte spirituale che sono due cose con due coscienze diverse che per problemi tecnici non si sono mai guardati questo perché l'universo è duale perché tutto è frattalico uniamo tutto quello che dobbiamo unire dentro di noi è l'universo da quell'istante creeremo l'universo da quell'istante in un modo armonico perché? è perché l'armonia ce l'abbiamo dentro abbiamo identificato che cos'è la coscienza sappiamo che noi siamo la coscienza sappiamo che la coscienza si è divisa in miliardi e miliardi di esseri che devono imparare un pezzettino piccolo piccolo ognuno la sua piccola parte di dualità per poi riunirci insieme e dire noi siamo l'unificazione questo è quello che sta succedendo in questi giorni e ce ne accorgiamo di più in questi giorni proprio perché lo stiamo capendo ecco mi fermo qui perché se no facciamo le due di notte corrado mamma mia mamma mia mamma mia senti allora al di là degli applausi che sento da tutti lì perché sei nella sede degli organizzatori allora corrado tu hai detto la dualità non esiste non ci sono buoni e cattivi però prima hai detto che esiste visnu e sciva esiste l'antimateria e la materia esiste unideva e gli azzura quindi c'è una dualità o non c'è certo la dualità c'è perché noi ne abbiamo bisogno l'abbiamo creata noi ma è finta sostanzialmente ecco quindi quando si parla per esempio nel mito di buoni e cattivi di demoni e di angeli noi dobbiamo capire che siamo un po' demoni e un po' angeli dobbiamo capire è che dobbiamo in qualche modo fare pace con la parte di noi che abbiamo sempre rifiutato nel mito sciva e visnu e dico sciva e visnu perché è il mito più antico della valle dell'indo a cui possiamo fare riferimento perché prima di quello c'è stato il diluvio universale e noi non è che sappiamo bene come sono andate le cose ecco in quel contesto queste due culture di sciva e visnu noi le vediamo a secondo della cultura che abbiamo come due forze che si picchiano tra di loro sono in grande contrasto tra di loro le creature di sciva che sono gli asura e le creature di visnu che sono i deva asura vuol dire senza corpo pensano e deva sono sostanzialmente esseri di luce neanche loro senza corpo poi finiscono per lottare tra di loro e perché lottano tra di loro lottano tra di loro perché non hanno quella cosa che invece hanno gli uomini cioè l'eternità l'anima e allora loro la chiamano in un altro modo amrita è una specie di frullato dell'universo che loro devono bere per poter acquisire questa capacità e noi ritroviamo oggi quel mito traslato in quelle che sono le due teste della massoneria e della politica mondiale una globalista e l'altra nazionalista che sostanzialmente cercano di ottenere dal popolo la stessa cosa mettila in tutti i modi che ti pare sostanzialmente l'energia vitale cioè chi comanda ti vuole ciucciare fino alla fine e i due modi che ci sono duali di comandare alla fine vedi che sono questi due modi degli dei questi dei sono stati creati da te quindi non è Dio che ha creato l'uomo per un bisogno perché così sarebbe ma è l'uomo poco informato che ha creato Dio per un bisogno e perché lo ha creato perché essendo lui il creatore lo deve capire che è lui il creatore e siccome non lo capisce da dentro di sé cosa fa? Si crea la dualità degli dei fuori quindi Enki ed Enlil nella valle della Mesopotamia Shiva e Visnu in India Quezzako Atle e l'altro suo fratello più mato dal nome impronunciabile in Sud America c'è sempre questa mitologia dell'aquila e del serpente che sono la dualità sostanziale che questi oggetti pseudo divini sono in realtà il bisogno che noi abbiamo di creare l'esterno all'esterno la dualità cioè un Dio buono e un Dio cattivo per far comprendere la cosa è complicata e difficile che noi siamo sia gli dei buoni che gli dei cattivi che noi siamo tutto ma dove in realtà il buono e il cattivo è una finzione del nostro cervello c'è un signore che si chiama Pribram e che ha scritto una trentina di lavori e di libri anche un paio di libri almeno sul fatto che il nostro cervello sia un lettore di ologrammi quindi Trimurti vuol dire tre tipi di immagine quindi gli antichi poi che non sapevano la fisica quantistica ma sapevano leggere nelle notte della realtà avevano già capito che noi questa immagine della realtà la viviamo come tre cose Shiva Brahma e Vishnu che sono tre aspetti della immagine c'è solo un'immagine l'universo anche per gli antichi indiani è un ologramma allora altra cosa tutti chiaramente chiedono di fare una domanda cioè come vede il professor Corrado Malanga i prossimi dieci anni e io aggiungo a questa domanda un'altra domanda ma gli alieni verranno a salvarci o non dobbiamo sperare che arrivino gli alieni a salvarci e dobbiamo farlo noi sono due domande che sembrano difficili in realtà sono secondo me molto facili allora innanzitutto innanzitutto cosa succederà quale sarà il nostro futuro la domanda ha una sola unica risposta lo so che sarà deludente almeno la prima parte della domanda c'è di renderla meno deludente una seconda parte cosa sarà del nostro futuro il nostro futuro sarà come noi vogliamo che sia perché noi dobbiamo avere il coraggio di acquisire la consapevolezza che noi siamo coloro che finora ce ne siamo lavate le mani e non abbiamo voluto acquisire la consapevolezza di noi perché abbiamo affidato a un prete il proseguio della nostra anima a un politico il proseguio della nostra vita a un avvocato e a un notaio e a un commercialista il problema di non finire in galera perché non si paga le tasse abbiamo sempre demandato ad altri al medico di guarirci il medico non ci deve guarire il medico ci deve dire come guarire da soli abbiamo delegato quindi ora non è che ci possiamo lamentare del fatto che abbiamo un governo che non ci piace perché quelli ce li abbiamo messi noi lì tanto tempo fa perché da ora in poi scordatevelo italiani non ci saranno mai più elezioni questo che sia chiaro perché questo è quello che mi dice come andrà a finire ma questo non vuol dire che finirà male questo vuol dire che dobbiamo fare e comprendere e capire che noi abbiamo sempre delegato gli altri e questo il nostro problema la coscienza prevede che tu sia responsabile di te tu sei il partito di te stesso tu sei colui che deve prendere in mano la res pubblica e non andare a votare su un fogliettino di carta e dire a un qualsiasi politico pensaci te che io c'ho da fare perché così è stato e il popolo italiano ha un problema fondamentale quello che nel suo DNA non ha il DNA della rivoluzione lui non ha mai fatto nessuna rivoluzione e quindi la farà questa volta io ovviamente spero di sì e che sia una rivoluzione in più pacifica possibile e la coscienza prevede solo che ci sia la pace che non ci sia la guerra perché la guerra è divisoria la divisione produce una diminuzione dell'entropia perché non c'è più il piano di simmetria tra ricchi e poveri allora cosa vuole il governo il governo vuole mantenere il governo giustamente fai il suo lavoro e allora cosa fa vuole mantenere la separazione tra i popoli vuole che ci siano i ricchi da una parte e i poveri dall'altra perché solo così divide e ti impera l'entropia in quella formula di Boltzmann sarà un numero basso non un numero alto perché i microstati saranno tanti e noi continueremo a dividerci e a sottodividerci in un sacco di partiti basta con i partiti il modello dei partiti questo modello di democrazia basta è inutile dire ora faccio un nuovo partito così quando ci saranno le elezioni ma dove è impossibile che ciò possa accadere perché indietro quel signore lì non ci torna e quindi noi ci avremo fra un po' i carri armati per la strada questo è quello che succederà spero di sbagliare per carità e questo è il primo aspetto secondo aspetto arriveranno gli alieni a salvarci dunque gli alieni sono già qui da almeno 500 mila anni e non ci possono salvare perché il loro grande progetto siamo noi ciucciare l'energia la parte creativa la realtà di noi stessi perché loro come peraltro c'è scritto nel mito e per esempio nella Bibbia non sono animici non hanno quella parte di consapevolezza in più che noi abbiamo certo loro hanno la tecnologia ma l'evoluzione non è mica fatta di tecnologia l'evoluzione è fatta di aumento di consapevolezza cosa volete che me ne faccia io di tre telefonini se so parlare con la mia testa a 400 milioni di chilometri di distanza a un altro così facendo non sono neanche controllabile da un qualsiasi satellite Ecelon che mi passa sulla testa ecco perché ti danno la tecnologia e ti dicono usa la tecnologia perché così non ti accorgerai mai che tu ne puoi fare a meno e questo è una cosa fondamentale quindi l'alieno non ti può aiutare anche per un principio fondamentale sempre nel secondo principio della termodinamica in questo universo brutto è quello che sto dì se hai interpretato male è brutto in questo universo nessuno fa niente per un altro in questo universo noi abbiamo solo delle persone che sono gli egoici e i consapevoli gli egoici credono di fare qualcosa per un altro ma in realtà lo stanno sempre facendo per se stessi il il consapevole fa solo per se stesso perché sa che l'altro non c'è perché l'altro è sempre lui e l'unico modo per aiutare l'altro è fargli fare l'esperienza da solo se no se io aiuto uno ad avvitare le lampadine lui non non imparerà mai ad avvitare le lampadine lui è venuto qui per imparare ad avvitare le lampadine io gli faccio il peggio spregio che potrei fargli perché gli impedisco di fare l'esperienza quindi non esistono da nessuna parte in tutto l'universo esseri buoni cattivi che non esiste quindi più o meno consapevoli si dice così che faranno qualche cosa per te lo stanno facendo per loro ecco ma quando accadrà che ci saranno i cararmati per strada o che faranno un blackout energetico eccetera pur noi con la nostra consapevolezza come possiamo vincere o sopravvivere quello che io credo si debba fare è proprio fare questa ricerca dentro di noi parlare con noi stessi per questo che io accennavo prima al triade color test dinamico flash è una simulazione mentale che prende spunto da un certo numero di cose che sono il test di Max Luscher dei colori siamo nel 1921 la croce degli spazi di Pulfer 1924 era un grafologo lo psicodramma di Moreno e tutta un'altra serie di cose costruire questa simulazione mentale in cui molto semplicemente tu cerchi di far unificare la tua coscienza si tratta di immaginare dentro una stanza mentale che è la tua buia tre sfere che sono tre lampade che si accenderanno quando vorrai te perché sono spente quindi all'inizio nel buio non vedi niente la prima lampada è la lampada della mente che si accenderà da una parte la seconda lampada è la lampada dello spirito che si accenderà da un'altra parte e la terza lampada è la parte della parte animica guardi queste tre lampade farli con loro e le convinci a tornare ad essere quello che erano prima Shiva Vishnu è Brahma che diventano che tornano a essere coscienza integrata ti posso assicurare che siccome lo abbiamo fatto su 3000 e passa persone e alle persone che gli è venuto bene il giochino aprono gli occhi e sono in un altro mondo vedono i carri armati per la strada ma sanno che la cosa può essere gestita non hanno più paura perché non esiste la paura esiste solo la paura di aver paura e la paura è un esempio di divisione perché tu hai paura di un altro che credi che sia un tuo nemico non c'è più nessun tuo nemico l'altro è solo quello spettro che tu credevi che fosse mister Hyde di te che sei il dottor Jekyll ma in realtà l'unico modo di finire finirla di scappare finirla di girare la testa dall'altra parte l'unico modo è girarsi verso il tuo creduto erroneamente nemico e parlarci questo è quello che si dovrebbe fare e io credo che almeno il 20% degli italiani credo da quello che mi sembra hanno imparato o stanno imparando molto rapidamente a farlo almeno guardando le ultime manifestazioni di piazza delle ultime 6-7 settimane allora grazie grazie Corrado fantastico non vedo l'ora di incontrarti per perché è bello perché prima ci siamo fatti una telefonata io e il professor Malenga e io gli ho detto allora io magari ogni tanto interagisco compaio e faccio una domanda poi dopo mi sono messo qui seduto sulla mia poltrona mi sono goduto l'intervento non ho avuto neanche uno spazio ma neanche per entrare gamba tesa perché era tutto talmente perfetto tutto talmente fortunatamente questa registrazione rimarrà uno se la potrà rivedere anche perché l'intervento è stato molto denso e uno lo può rivedere a momenti perché è veramente tutto molto denso grazie professore grazie grazie a voi della vostra ospitalità